I giorni della ricorrenza dei defundi patrocinato dal comune di Caltanissetta e in collaborazione con la protezione civile e l'associazione VIP Clown di Corsia hanno organizzato l'avendo Rigio Cattoliamoci che si terrà il 31 ottobre al collegio Sant'Agata, il 1 novembre al quartiere Provvidenza nel laboratorio di ricreatività del progetto pilota e il 2 novembre a San Domenico. Scopo dell'iniziativa è donare ai bambini meno fortunati la possibilità di ricevere dei giocattoli nuovi o usati, donando loro un sorriso e due ore di gioia, intrattenuto dall'associazione VIP con giochi e tanto divertimento. Noi diciamo che siamo la parte colorata di questa giornata perché cercheremo di portare più allegria possibile perché comunque è un evento dove ci saranno protagonisti bambini ed è una parte a cui noi teniamo. In quella giornata noi cercheremo di fare bolle di sapone, balli, giochi e per noi è molto importante perché questi eventi di volontariato sono affini con il nostro volontariato che è quello di andare per le corsie ma anche dove necessita un sorriso in più. Non mi resta che dirvi ci vediamo allora giorno 31, 1 e 2 novembre, mi raccomando accordete numerosi. Grazie.